Per me è sempre stata un'unica cosa, famiglia, casa, professori. Al posto del grande magazzino vogliamo sempre concentrare un'anima da boutique. Essere al passo con le esigenze, con le richieste del mercato, con le richieste dei colleghi. Il ciclo vitale della nascita di un libro è un fattore abbastanza entusiasmante, come la nascita di un bambino. L'editoria in prima persona è quello che ci contraddistingue. L'editoria in prima persona è un fattore abbastanza entusiasmante.